Allora, ciao amici, oggi vado a recensirvi un albo del Grande Diabolic numero 3 del 2023 intitolato Giù la maschera. Questo albo appunto come vedete qui di la scalia a colori era già apparso nel formato diciamo più piccolo nel, scusate la voce, nel luglio 2010. Allora, questo Giù la maschera è una bella storia molto ben fatta, un bel soggetto ben sceneggiata con, c'è un rifacimento a una storia del passato che però anche se non è letta può essere benissimo letto. Allora, il soggetto della storia è di Mario Gomboli di Tito Faraci, la sceneggiatura è di Tito Faraci, i disegni di Emanuele Barisonna e la copertina di Sergio e Paolo Zaniboni. Allora, devo dire che per quanto riguarda il colore diciamo che mi è piaciuto abbastanza, non è eccelso perché chiaramente Diabolic io come tutti i fumetti un po' preferisco il bianco e nero, però poi vi farò vedere alcune tavole, ad esempio ecco già vi faccio vedere che mi è piaciuto molto il blu, questa specie di blu elettrico ed è sia della calza maglia di Diabolic che della sua auto, la Jaguar. Allora, in pratica la storia inizia e qui fa subito un riferimento a un numero, un vecchio numero di Diabolic dell'aprile del 74, il numero 4, perché sappiamo sempre che Diabolic è diviso in annate, adesso poi dico aprile ma non mi ricordo se era proprio quel mese, il numero 4 di solito corrisponde al mese di aprile, che era una macchina per inferno in cui appunto l'ingegnere Giorgio Corbett aveva inventato una macchina in grado di riconoscere le maschere di Diabolic e quindi per lui un colpo tremendo. e quindi inizia proprio la storia con Ginko che va a trovare l'ingegnere Giorgio Corbett dicendogli se gli fa vedere appunto la macchina che era ancora in funzione e che doveva scoprire. E si accorge ben presto che la macchina funziona perché Ginko è un altro che Diabolic che uccide con una pugnalata, con il suo famoso pugnale, l'ingegnere Giorgio Corbett e trafuga tutti i documenti di questo macchinario per lui appunto infernale perché noi sappiamo che le maschere per Diabolic sono tutto, è un elemento fondamentale per i suoi colpi, i suoi furti, sia per lui che per la compagna vacante e distrutto. E quindi iniziano a stare, c'è una fuga di Diabolic e nella stessa notte l'ingegnere invece che etnicamente il nipote di Giorgio Corbett che è Giacomo e la sua compagna Diana cominciano, lui vuole proseguire gli studi che aveva fatto il suo zio, proseguendo, etnicamente appunto lui parla di tutto quello che dovrà scoprire. Passano i giorni e addirittura ci sono due, diciamo, bird watching che vanno alla caccia di un certo gufo maculato e si accorgono appunto di questo gufo maculato appunto si accorgono della macchina di Diabolic etnicamente avvisano Ginko dicendo che in questa specie di villino di Casale di casa appunto di villa, villino come volete chiamarlo è probabile che ci sia un rifugio di Diabolic che infatti chiamano una squadra speciale munita di maschere e antigas e addirittura scoprono tutti i trucchi di Diabolic gas addirittura da un soffitto, vedete qui escono degli aghi che poi si scoprirà colpiranno un agente ma non mortali, solo aghi narcotici e comincia, diciamo, entriamo nel vivo la storia perché entriamo nel vivo la storia? perché causa un'infiltrazione d'acqua nel laboratorio dell'ingegnere Giacomo Corbett viene trovato da un'infiltrazione d'acqua con una specie di nascondiglio vedete qui, no? una specie di nascondiglio e questo nascondiglio lui scopre, Giacomo, che ci sono i documenti della macchina appunto per realizzare in pieno la macchina di suo zio, suo zio Giorgio e quindi cosa fanno? fenotricamente, mettono appunto perché c'è un'esposizione di una collana ecco, poi non ho detto che all'interno del rifugio di Dabolica era stata trovata di tutti i disegni per un furto appunto a un'esposizione di gioielli una famosa collana di sberaldi quindi loro che cosa fanno? provano questa macchina io appunto nel salone dove dovrà essere esposta questa collana questi gioielli questa collana e questi gioielli si accorgono appunto che la macchina entra in funzione quando entra una donna una donna e questa donna loro si accorgono dice Ginko pensa subito che è vacante appunto con una maschera anonima che va a controllare a fare una specie di cioè una specie un sopralluogo però che succede? stanno pedinando quando a un certo punto viene strattonata da un scippatore e viene smascherata e viene smascherata addirittura lei chiama Ginko eh sì scusate chiama Dabolica con il radiocomando e fuggono riescono a fuggire addirittura usano un gas che pur essendo i poliziotti avendo le masche anti gas li neutralizza perché questo gas in realtà è urticante per le mani infatti vedete vengono tutte hanno una specie questa specie di rigonfiature di bolle di con fissure di mani e quindi riescono a fuggire però Ginko diciamo lui comunque non si preoccupa di questo perché dice è vacante non può sospettare che noi avevamo questa macchina perché è stata smascherata diciamo in maniera del tutto casuale e quindi cominciano a provare la macchina c'è uno scontro adesso con il titolare che è il conte perché arrivano tutti dei nobili una settimana dopo ecco con sete che questa storia poi va avanti passeranno una settimana mesi quindi diciamo è tutta una storia che si svolge un arco di tempo molto lungo ecco l'ambasciatore viene tricamente si secca perché Ginko vorrebbe non dovrebbe gli dice proprio gli vieta di fare il controllo diciamo manuale dei volti perché questi sono nobili quindi hanno fastidio che vengano toccati insomma adesso che succede io a questo punto non vado tanto avanti perché rischierei poi di fare spoiler vi invito a leggerla perché veramente c'è un colpo di scena vedrete poi il tipico diciamo questo è un po' tipico di Diabolic ma che però non è molto ben fatto molto ben strutturato secondo me anche con di punti è ben incastrata anche come storia non ha diciamo sì alcune forzature ci possono essere ma questo diciamo rientra proprio nel personaggio ci sono delle cose che non sono subito chiare bisogna rileggere un po' per capire diciamo che è una classica storia di Diabolic questo sì però ha in più il fatto di questo pericolo di questo pericolo imminente che appunto il nostro protagonista re del terrore percepisce e quindi c'è anche un po' un tema questo lo posso dire ma alla fine non è un proprio spoiler di vendetta anche se potevate immaginare potete immaginare chi e perché e quindi si legge bene molto interessante poi è l'editoriale di Mario Gomboli proprio mai senza maschera che proprio parla di tutte le storie in cui sono la parte protagonista è sempre no pensiamo la storia dell'assassino dai mille volti ma poi soprattutto il numero 5 del 1968 che è stato ristampato il numero 107 Diabolic i 6 e a proposito per quanto riguarda ah ecco poi un altro numero la numero 9 del 2009 la maschera sbagliata poi c'è stata un'altra storia in cui appunto lui Diabolic aveva sbagliato perché la maschera perché doveva fare un taglio una specie di cicatrice ma aveva visto la foto al contrario vabbè piccoli dettagli in tutte queste storie che chiaramente come sappiamo la maschera che poi deriva dai film di Phantom di sì di Phantom è sull'animento fondamentale lui aveva creato queste maschere questa resina di queste maschere plastica diciamo sottilissima che riproduceva esattamente le fattezze del dell'uomo o la donna Serraia e Vacanti che devono sostituire in più lui aveva questa grandissima abilità di imitare le voci i movimenti insomma studiava la perfezione la persona che doveva andare a sostituire o a proposto per quanto riguarda Diabolic Chi Sei esce proprio oggi il film Diabolic Chi Sei ecco questo dal 30 novembre 2000 e da oggi insomma 39 2023 vado a controllare una cosa solo perché non mi ricordo chi è l'attore scusate un attimo e niente non adesso Diabolic Chi Sei Chi Sei film del 2023 poi c'era stato anche un albo che aveva fatto un cartonato con i disegni che spero di recuperare di Corrale Oroi il film la regia è dei manetti brosa sempre e l'attore principale si chiama Giacomo Gianiotti Giacomo Chito Gianiotti attore italiano naturalizzato canadese io sinceramente gli altri non li ho visti sia il Diabolic del 2021 con Luca Marinelli che Diabolic G5 all'attacco me le ricupererò e poi se vado a vedere anche questo vedi nel 1960 vedi il film di Mario Bava che poi fu un fiasco proprio Diabolic si intitolava che credo era con mi ricordo gli attori ma so che c'era Adolfo Celi se non sbaglio vado sempre a controllare Diabolic di Mario Bava sono sicurissimo del 1968 però non mi ricordo non mi ricordo chi erano gli attori scusate un attimo vi lo dico subito c'erano l'attore erano John Phillips Lowe Marisa Mel Marisa Mel faceva la canta Michelle Piccoli l'ispettore Ginko Adolfo Celi si faceva un altro personaggio ma un film che non ebbe non ebbe successo va bene comunque ve lo consiglio vivamente a questo numero do un 8 si veramente se lo merita e quindi vi invito a leggere questo oppure se avete il grande Diabolic originale quello diciamo del del 2010 a rileggere se avete già letto o leggere quello un caro saluto e buona giornata grazie a tutti